Allora, va bene così? Va bene così? Perfetto! Ok. Ci siamo? Allora noi, prego, facciamo la presentazione ufficiale. Per la sessione che sta per svolgersi stamattina occorrono due bottiglie. Sì? Siamo con un riscaldamento. Chi non ha portato le mani le bottiglie e gesta di già. È stato giusto? Vai! Vai, riscaldiamoci un pochino, lì. Siamo le spalle. Cazzo e rotazione. Vado su. Spingo due volte dietro e torni giù, due volte dietro e torni giù. Sì, mi sei scaduto sto solo, perché se no non lo vedo, mi taglio. Ok, ne facciamo solo una per riscaldare il lato inferiore, tra dei calci davanti come l'altra volta, una per riscaldamento. Ok. Forza linea! Su! 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 Sciolto! E iniziamo! Prendiamo le nostre bottiglie! Facciamo? Facciamo subito! Prendiamo! 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 Grazie a tutti.